Ciao ragazze, bentornate nel canale Sapopa. Siamo pronte per cominciare un altro allenamento. Oggi sarà focalizzato sugli addominali. Allora cominciamo, non ci si ferma mai. Pronti, sui piedi, ci scadiamo gli addominali. Porto le ginocchia presso il petto. Fuori là, su. Su. Sono 30 secondi di lavoro senza pausa. Nello stesso esercizio. Una posizione di isometria e pericomincio. 3, 2, 1, giù a terra. Mantengo questa posizione a tavoletta. Addome dentro. Sui piedi, incrocio. Ci stiamo scaldando, eh? Un bel twist. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Vado in posizione di flank. Addome nel tratto. Glutei stretti. Spingo meglio sulle spalle. Mantengo. Ragazzi, il cambio. Chiudo. Su. Hop, hop. Fuori l'aria. Inspiro. 3, 2, 1. Mantengo l'equilibrio. Chiedi uniti. Ginocchia unite. Schiena bella curva. Spingo le mani avanti. Tengo. 3, 2, 1. Giù a terra. Partiamo con un crunch. Non mollare mai l'addome. Non rilasciare mai la testa sul tappetino. Ma continua a salire. E. Su. 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 Mantengo. Stai. Mani alle ginocchia. Spingiti in avanti. Ragazzi, andiamo a salire un po' di più da qua. Incrociando. Vai. Su. Siamo ancora scaldando. Mantengo la posizione. Ragazzi, andiamo in un crunch inverso. Le mani vado a terra. Sollevo il sedere. S. 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 3, 2, 1. Mantengo la posizione di chiusura. Le mani spingono i talloni. Pronti ad aprirci? Stendo. Chiudo. Stendo. Spingi la schiena a terra. Inspiro. Fuori. Fuori. In. Fuori. In. Fuori. In. Fuori. 3, 2, 1. Ragazzi, mantengo la tavoletta. Pronti per le sforbiciate? Portano la gamba verso l'alto. Di scambio. Via. 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 3, 2, 1. Mantengo la gamba al petto. Tollo le mani. Pronti a ripartire con le sforbiciate? 3, 2, 1. Andiamo. Via. 3, 2, 1. Cambio la gamba. Tiro. Se vada al capo, appoggiano sulle mani. Ci prepariamo al prossimo esercizio. Sarà di criss cross. Il gomito e la ginocchio opposto. Pronti? Si va. Via. 3, 2, 1. Cambio, ragazzi. Ci vediamo sul piatto. Sul fianco. Salmi. Mantieni la posa. Da qui andiamo su e giù. Col vaccino. Si iniziano a sentire, eh? Questi addominali che lavorano. Su. 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 3, 2, 1. Cambio lato. Mi appoggio sul gomito. Salmi. La testa in linea col corpo. Pronti ad andare su e giù? Via. 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 Cambio. Ragazzi andiamo a mantenere la stessa posizione. Un abbraccio teso. Se ce la fa, solleva anche la gamba. Da qui scendo col vaccino e torno. Scendo e torno. Il mio lato? Vai. Mi spinta sulla spalla. Adome dentro. Gli uteri stretti. Testa in linea. Pronti ad andare su e giù? Andiamo. Cambio ragazzi. Equilibrio. Equilibrio. Spingi le mani avanti. Talloni uniti. Allungati con la colonna. Siamo pronti per delle fantastiche chiusure a libro? Sì, vero? 3, 2, 1. Si va. Ragazzi, mantengo. Candela. Vado su e giù col vaccino. 2, 2, 2, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Le mani. Scendo. Vado con le mani a toccare le punte dei piedi. Mantengo l'equilibrio su. Dai che ci siamo quasi. Forza. Ragazzi andiamo a salire in obliquo. Vai con la mano verso il tallone opposto. Su. 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 Ho. Cambio. Torniamo in posizione di plank. Sui gomiti. Prossimo esercizio saranno le circonduzioni del bacino. Pronti? Uno per lato. Si va. E' un po'. E' un po'. a mollare, tieni in questa posizione, andremo ad aprire e chiudere le gambe, stando sempre 3, 2, 1, pausa, allungo la schiena, ragazzi siete stati fantastici, se ce la fate, ripetete il circuito, al prossimo appuntamento, ciao!